Sarà eseguita il prossimo lunedì l'autopsia sul corpo di Angelo Costanzi, il 65enne a retino, ex dipendente della motorizzazione civile, morto dopo un intervento operatorio alla clinica San Giuseppe. Per questo sarebbero partiti gli avvisi di garanzia, destinatari, tre medici che erano in sala operatoria, due chirurghi ed un anestesista. Il 65enne è deceduto lo scorso 29 gennaio, dopo due giorni trascorsi in coma irreversibile al San Donato, dove era arrivato perché non si era risvegliato dall'anestesia effettuata durante l'intervento alla schiena. Il capo dell'equipe chirurgica sarebbe poi indagato anche per un altro procedimento, dove la Procura della Repubblica sta cercando di far chiarezza in merito al decesso di una cinquantenne morta il 15 gennaio all'ospedale Umberto I di Roma dopo mesi di cure. La donna era venuta ad operarsi al San Giuseppe per una fastidiosa artrosi lombare. Per entrambi gli episodi a coordinare le rispettive inchieste c'è il PM Angela Masiello. Si tratta comunque di atti puramente tecnici per tutelare le parti davanti agli accertamenti non ripetibili di un'inchiesta, a cominciare proprio dall'autopsia. L'esame autoptico sarà svolto dall'equip di medicina legale dell'Università di Siena per fare piena chiarezza sulle ragioni della morte di Costanzi, anche la famiglia del 65enne assistita dagli avvocati Francesco e Francesca Molino potranno partecipare agli accertamenti incaricando un consulente di fiducia. È stata infine avviata anche una verifica interna da parte della clinica San Giuseppe che proprio in questi giorni ha fatto sapere tramite una nota che la cartella clinica del paziente ed ogni ulteriore elemento richiesto sono nelle mani delle autorità che stanno provvedendo in queste ore a tutti i rilievi necessari. San Giuseppe e Hospital concludono resta quindi in attesa di ricevere esiti e continuerà a collaborare alla ricostruzione di quanto accaduto.